Il fado portoghese è tutto, è canto, musica, danza, sofferenza. Nato nei quartieri più poveri delle città del Portogallo, esso si esprime in mille toni, che vanno dall'accorato al drammatico, al sofferto. Naturalmente per questi accenti ci voleva un interprete di una personalità non indifferente e noi ci troviamo di fronte alla più prestigiosa cantante portoghese. Ascoltiamo ora Amalia Rodriguez, la regina del fado, in Che strana forma di vita.